Grazie Gerardo. Adesso abbiamo il nostro primo degli interventi. Chiamo qui il professor Gianmichele Calvi, ordinario di tecnica delle costruzioni all'Università di Pia e uno dei massimi esperti internazionali sulla sicurezza dei terremoti. Il tema è loss-based design. Buongiorno a tutti. È un piacere essere qui ancora una volta. Non è la prima volta che sono alla Hilti Academy. Discrutevo poco fa con Paolo Baccarini, uno degli Hilti Men, di che senso avesse scrivere un libro, un libro tecnico. Quando oggi parlare di novità dura meno del tempo che serve per scrivere un libro e parlare invece di conoscenza non è più possibile, perché le enciclopedie non esistano più. Perché c'è Wikipedia, ci sono le altre sorgenti che hanno ucciso le enciclopedie, ma ne hanno ucciso anche la credibilità. E vi domanderete perché vi sto raccontando tutto questo. Perché questa cosa in fin dei conti si applica anche a che senso ha fare una presentazione. Come un po' il libro che sto scrivendo, che senso ha, perché, che cosa scrivere. La risposta sul libro che davo è ha senso scrivere un libro tecnico se lo si legge come un racconto, se c'è anche un piacere della lettura, non ci si deve rompere sopra la testa per capire di cosa si parla. La stessa cosa è una presentazione. Io quello che, lo so, lo so che mi guardano di là, ma mi guardano un po' di qua, un po' di là. La stessa cosa, dicevo, si applica a una presentazione perché anche in una presentazione credo che ci debba essere il piacere del racconto. Il racconto, il titolo è stato già introdotto, è un titolo che parla di loss-based procedures, loss-based design. Loss-based design che oggi non esiste. Oggi esiste da tanti anni un force-based design, un metodo di progettazione basato sull'accelerazione. Esistono il displacement-based design, metodi di progettazione basati sugli spostamenti. Si parla oramai da quasi trent'anni, da dopo l'Omma Prieta 89, di performance-based design, di prestazione alla base di una progettazione, ma loss-based design, cos'è loss-based design? Quindi io non parlo di oggi, parlo di un racconto di fantascienza, di un racconto del futuro, che però è molto strettamente collegato con i tentativi, ahimè, riusciti forse solo parzialmente, connessi con quello che in Italia si sta cercando di fare per favorire le pratiche antisismiche, quindi dei cosiddetti bonus. Dunque, loss-based design è solo una traduzione per dire per cosa progettiamo. Progettiamo per minimizzare l'investimento totale. L'investimento totale in termini di denaro, l'investimento totale in termini di risorse, l'investimento totale in termini di protezione della vita umana. Questo è ovvio, ma come si fa? Questo è il problema. Fino ad ora, anche nel performance-based design, io non ho visto quasi nulla che sia realmente applicabile. È difficile perseguire questo obiettivo, è difficile perché la correlazione fra perdite e quindi prestazione e parametri normali di progetto è una correlazione debole. Pensare che ci sia un'immediata correlazione fra accelerazione e perdite è fantasia. Cercare di farlo non vuol solo dire, come sta in questa slide, di migliorare la definizione dell'input, di scegliere bene il sistema strutturale, di scegliere un sistema di elementi non strutturali e delle loro connessioni alla struttura che sia coerente con quello che si sta facendo, ma viceversa richiede anche di riuscire a trovare dei parametri semplici che consentono di progettare con degli obiettivi diversi da quelli per cui si è progettato negli ultimi cento anni. Qualche cosa di questo genere è stato esplicitato in qualche modo, per esempio in un documento americano noto, credo a molti degli ascoltatori, il film P-58, che riguarda soprattutto la valutazione, l'assessment degli edifici esistenti, in cui venivano illustrati con chiarezza i diversi passi, quindi il primo passo, una correlazione fra probabilità di superamento e un parametro di moto al terreno, per esempio di un'accelerazione, quante volte in un anno si superano 0,1G, 0,2G, 0,3G. Il secondo passo è la caratterizzazione di una prestazione strutturale, quindi in funzione di quell'accelerazione che ha una certa probabilità di occorrenza, che cosa succede in termini di danno o in termini di probabilità di collasso, se volete. Da questo il terzo passo è passare a una valutazione delle perdite, che in quello che vedete scritto qua ho lasciato perdite, ma si tratta più di costi, non di perdite nel senso proprio del termine. Non c'è nessuna parola, per esempio, che parla di perdite connesse con danni indiretti, con la difficoltà di utilizzare un ponte, un ospedale, una scuola o un edificio. E l'ultimo passo è il decision making, cioè cosa facciamo, dove interveniamo. E allora lì vedete ancora due esempi dal FIMA P58, in cui la scritta MAFE vuol dire Mean Annual Frequency of Exceedance, cioè qual è la probabilità annua di superamento, e quindi in funzione di questo, quali sono le perdite attese o qual è la probabilità di collasso. Molto chiaro dal punto di vista del framework, dell'impostazione, ma per niente applicativo. Queste cose qualcuno degli ascoltatori, forse ricorderà, ne parlavo una decina di anni fa a Lisbona, potrebbe far pensare ad utilizzare, per esempio, uno spostamento interpiano come parametro, che è un parametro di risposta molto più correlato al danno di quanto non lo sia un'accelerazione. Quindi una struttura può essere caratterizzata da uno spostamento interpiano, int story drift, di un certo livello che garantisce la possibilità di continuare a utilizzare questa struttura, o da un altro livello che garantisce la possibilità di ripararla, o da un altro livello che non garantisce nulla, garantisce solo di contenere entro certi limiti le perdite. Bene, in questo contesto è stato introdotto il concetto che ora cercherò di utilizzare, che nel mondo internazionale si chiama EAL, lo vedete scritto, expected annual loss, che dal punto di vista di definizione è semplice. è l'integrale della probabilità di occorrenza per il danno, integrata sul danno o sulla probabilità di occorrenza. Cioè è l'area che vedete colorata in rosa, arancione chiaro, nella slide che adesso è proiettata, perché, come credo tutti sappiano, un integrale, altro non è che una moltiplicazione di due parametri che porta a una valutazione di area. In questo diagramma, che dobbiamo discutere bene perché è essenziale, per quello che dirò ora, ci sono due punti convenzionali. Questi due punti convenzionali sono quello in alto a sinistra e quello in basso a destra. Quello in alto a sinistra è per quale valore di danno, ovvero per quale valore di probabilità di occorrenza che corrisponde a questo danno, diciamo che c'è un danno. Se arriva una scossa di un millesimo di G, ovviamente non ci interessa, un terremoto a mille chilometri di distanza non ci interessa. Quindi dobbiamo mettere un taglio che è convenzionale. In questo caso questo taglio convenzionale potrebbe essere un taglio che può corrispondere a un danno dell'1%, del 2%, un qualche cosa che sta al di sotto anche di quello che può essere un contratto di assicurazione. Il punto di estremità a destra è convenzionale per un'altra ragione, perché dal punto di vista del danno non c'è convenzionalità, 100%. 100% cosa significa? Collasso, ovvero una situazione che corrisponde al collasso in termini di costi di intervento. Quello che è convenzionale è per quale valore di probabilità di occorrenza progettiamo. La risposta sta nelle norme. Nelle norme vi si dice che progettiamo per una probabilità di occorrenza pari al 5% in 50 anni, ovvero periodo di ritorno a 475 anni per un edificio normale, ma potreste dire che progettiamo per mille anni di ritorno o per 2.000 anni di ritorno. Nelle norme si trovano questi casi. Per un ponte importante, per un edificio importante, per 1.000 anni, per una centrale nucleare 5.000 anni, cioè probabilità di occorrenza pressa poco, 1 su 5.000. Ma con questi due soli punti, facili a definire, non si definisce la curva che definisce la perdita, ci vuole qualche altra cosa. Ma pensare di avere più di un altro punto è impensabile nella pratica. E se pensate alla pratica convenzionale di oggi, è un po' così che si fa. Quando si dice che progettate per uno spostamento interpiano non superiore allo 0,5% per un terremoto che è due o tre volte più piccolo di quello per cui progettate a collasso, questo si sta facendo, si sta cercando di contenere un danno. Ma questo è razionale? Allora, quello che io vorrei cercare di fare è di farvi vedere che è possibile progettare per un punto intermedio e a questo associare la prestazione della struttura e della non struttura, cioè dell'intero edificio, dell'intero ponte, di quello che progettiamo per un certo valore di perdite attese. Per questo valore di perdite attese è scritto in termini di expected annual loss, quindi di quel IAL che sta scritto lì, che è l'integrale sull'intera vita della struttura. Dunque, quello che sto cercando di dire è, possiamo prendere un punto da qualche parte che definisca l'intera curva di prestazione? Basta un punto? Cioè, in altre parole, potremmo pensare di prendere un punto come quello che ora vedete all'intersezione delle due rette rosse e calcolare l'area sulle rette rosse, ma se la curva fosse quella blu, in realtà l'area sotto la curva blu è molto diversa dall'area sotto le righe rosse. È due volte, o meglio, è due volte più piccola quella sotto la curva blu. E poi quel punto ha senso che stia proprio lì, cioè probabilità di occorrenza 1% piuttosto che danno 10% o dovrebbe essere più razionalmente presa danno 20% o da un'altra parte? Cerchiamo di capire questa cosa e soprattutto vediamo se possiamo produrre una curva come quella blu che con un solo parametro sia definita. Formula illegibile, me ne rendo perfettamente conto. Formula illegibile non importa perché questa formula illegibile ha dentro dei parametri che sono tutti noti dalla slide che ho commentato prima. La probabilità di collasso è il punto che sta in basso a destra. La probabilità di zero danno è il punto che sta in alto a sinistra. E voi vedete che si parla sempre di probabilità o di danno zero collasso, i due punti noti. E poi c'è un solo punto variabile che è la P, la probabilità lungo tutta la curva, e la D, che è il danno lungo tutta la curva. Tutto questo è funzione solo di un parametro alfa. Perché ho scritto questa formula? L'ho scritta perché cambiando alfa la curva mantiene i due punti di estremità, ma cambia nella sua forma. Allora, se questa curva funzionasse, e vi farò vedere che funziona, allora io potrei, in funzione di un solo parametro alfa che definisce questa curva, correlare le perdite totali attese. Dunque, i due punti terminali li lascio fissi, potrei cambiarli, ma prendo 2%, 100%, 20 anni, 2000 anni. E poi vedete che se decido di prendere, per esempio, il 20% come punto di correlazione, ma potrei prendere qualsiasi altro, se io cambio alfa, cambio la rapidità con cui la curva si abbassa. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, che quella curva viola più bassa di tutte potrebbe essere la curva sensata per progettare un edificio strategico. Sapete perché? Perché la probabilità di avere questo edificio che non funzioni dopo un evento che ha generato un ground motion forte somiglia alla probabilità che questo edificio ha di crollare. È esattamente quello che vogliamo per un grande ospedale. Esattamente quello che vogliamo. Noi vogliamo che un grande ospedale, dopo il terremoto 2000 anni, funzioni, non non crolli. Allora dobbiamo portare la probabilità del danno basso allo stesso livello della probabilità di collasso. Questo è radicalmente diverso da quello che facciamo oggi. È radicalmente diverso, ma questo è quello che vogliamo. Se noi vogliamo che un ponte sia percorribile dopo un evento che induce un forte ground motion, dobbiamo abbassare la probabilità corrispondente a quel livello di danno. Cioè avere un danno basso per la stessa probabilità che indurrebbe collasso. Dunque lì sono curve esemplificative, ma adesso le vedrete che diventano non tanto esemplificative. quelle curve corrispondono, i TR che vedete, sono return period, sono i periodi di ritorno, ovvero se leggete 100 vuol dire che la probabilità di occorrenza annua è circa 1 diviso 100. E qui guardate che cosa succede. È possibile sviluppare delle formule semplici, che potremmo cambiare, ci sarà gente più brava di me a cambiarle, ma lì vedete che c'è alfa, il solo parametro di quella curva, correlato con il danno, scusate, le perdite annue attese. E guardate che bello, guardate che succede. Succede che quei punti lì, più o meno, stanno tutti su quella curva che ho scritto lì sopra, alfa uguale 6% diviso IAL più 0,5%, ovvero se volete l'altra semplicemente invertita, e dipendono poco da dove sono andato a prendere gli altri due punti. Dipendono poco dal fatto che prenda 2%, 1% in alto a sinistra o dal fatto che prenda mille anni o duemila anni in basso a destra. Stanno comunque pressa poco lì. Allora vuol dire che invece di usare come punto principale per progettare il punto di collasso in basso a destra, forse ha senso prendere come punto per progettare quello intermedio e poi andare a verificare cosa succede nei punti convenzionali. Non il contrario. Perché quello è il punto che caratterizza quello che succederà. Quello è il punto che caratterizza la convenienza di progettare in un modo o in un altro. Guardate un'altra cosa. Vedete là sopra, c'è una tabella dove c'è scritto A è alfa. No, forse sì, insomma, quella A è un'alfa. Vedete che se prendete un'alfa attorno a 3.7, avete comunque, diciamo, un'alfa dell'ordine di 4, avete un expected danno al loss dell'ordine dell'1%. Cioè l'integrale delle perdite è tale per cui mediamente ogni anno perdete l'1% del valore dell'edificio. Che non vuol dire che perdete l'1% l'anno, vuol dire che per 10 anni non perdete nulla, poi perdete il 5% perché c'è una scossa, poi per 20 anni non perdete nulla, poi c'è una scossa più forte, l'integrale è l'1% anno. Bene, allora cosa succede? Succede che se prendete dei dati di progettazione oggi normali, vi trovate pressa poco nel punto di intersezione di quelle due rette grigie. Quello è il periodo di ritorno a 72 anni, probabilità di occorrenza 50 anni, scusate, sì, 50% in 50 anni, è giusto. E vedete che quella curva verde corrisponde a un expected danno al loss di 0,8%, quella gialla corrisponde al 1,2%, cioè oggi un edificio normale viene progettato così, viene progettato per circa l'1%, non lo sappiamo, non è scritto, ma è quello che io dico viene fuori da delle interpolazioni ragionevole dei dati che stiamo usando. Stiamo progettando per questo valore di perdito attese. Ci piace o non ci piaccia? È così. Che cosa succede se progettiamo per altri livelli, se progettiamo un ospedale? Tra l'altro, ospedale deve funzionare, luogo di grande influenza pubblica, non ha nessun bisogno che funzioni, è tutta un'altra logica. Io, mentre l'ospedale lo devo progettare per farlo funzionare dopo un forte ground motion, un teatro lo devo progettare perché se per caso il terremoto avviene quando è pieno, non crolli e non uccide la gente, ma posso tranquillamente permettermi di ripararlo dopo che c'è stato il terremoto. Quindi stiamo parlando di logiche che non sono riconosciute ma che potremmo riconoscere. Vabbè, queste sono altre correlazioni su cui vedo il tempo e quindi è meglio che vada veloce. L'altra cosa che vedete in questa curva, quelle curve che vedete, che sono molto compatte, sembrano somigliare molto uno all'altro, sono caratterizzate dall'avere solo cambiato i due punti di estremità. Se cambio i due punti di estremità, cambio poco, l'expect e danno al loss. L'expect e danno al loss è controllata dalla forma della curva, non dalla convenzione su dove prendo il punto in alto a sinistra o dove prendo il punto in basso a destra. Stiamo imparando molto perché questo non è patrimonio comune. Fatemi toccare ancora un tema importante, poi tanto salto tutto e ci abbiamo finito. L'oss estimation. Oggi si parla spesso di perdite, confondendo le perdite con il costo della riparazione. Non è affatto così. Spesso la maggior parte delle perdite è associato con il cosiddetto business interruption, non con il costo delle riparazioni. E questa cosa non viene considerata. La prima volta che in Italia qualcuno ha detto Hey guys, forse dobbiamo guardarla sta cosa, è quando c'è stato terremoto delle miglia in cui hanno cominciato a crollare le tonnellate di forme di parmigiano reggiano e si sono accorti che il contenuto valeva molto più del danno al capannone. Dunque, facciamo due conti semplicissimi. Proviamo a immaginare un conto riferito a un edificio residenziale. Esiste il business interruption per un edificio residenziale? Ma certo che esiste. La protezione civile dà il contributo di autonoma sistemazione dopo un terremoto. Gli homeless costano allo Stato, cioè costano a noi, cioè sono un costo sociale. Quanto costano? Facciamo una stima pressa poco. Diciamo che costano 35 euro al giorno, che li mandino in albergo e gli diano da mangiare o che gli diano il contributo di autonoma sistemazione. Supponiamo 35 euro al giorno. Supponiamo che il costo di ricostruzione totale sia 1000 euro al metro quadrato. Supponiamo che mediamente una persona occupi 25 metri quadrati. Ok? Bene, a questo punto supponiamo anche che il tempo di ricostruzione sia due anni. Questo ho voluto essere ottimista perché siamo ancora ricostruendo Messina a 1908, quindi diciamo due anni. Se prendiamo questi numeri, il rapporto fra il costo di ricostruzione e il danno, la perdita connessa alla non utilizzazione è circa uno. Cioè, questo che forse è il caso più ovvio, più banale, in cui non c'è un vero business interruption, se semplicemente qualche persona che deve per forza essere spostata altrove, gravare sulla società, le perdite indirette contano pressa poco quanto le perdite dirette. Ma questo vuol dire che in 0,14% al giorno, quindi fate in fretta a fare i conti, in due anni c'è l'1%. Ma se adesso facessi un esercizio diverso, che ho cominciato a fare dopo il crollo del ponte Morandi, proviamo a prendere un grande ponte. Anche qua non è mica difficile fare i conti del costo del business interruption. Prendiamo il numero di veicoli che attraversa il ponte. Se vogliamo essere raffinati, separiamo fra le automobili e i camion, certo. Prendiamo la lunghezza del percorso alternativo. Prendiamo il costo unitario per chilometro percorso in più rispetto al caso precedente. Prendiamo il tempo che serve per ricostruire o riparare il ponte. È una moltiplicazione. Sapete cosa viene fuori? Che ci sono casi frequenti in cui il rapporto fra perdite indirette, cioè il costo di non utilizzare un ponte e il costo connesso alla ricostruzione del ponte è 5. È 5. Cioè se un ponte maggiore cessa di funzionare, è molto più importante ricostruirlo in fretta che risparmiare sul costo di ricostruzione. Molto più importante. Molti ponti si ripagano in 3-4 mesi di funzionamento. Quindi non ha nessun senso mettersi a discutere su qual è la soluzione migliore. Bisogna discutere qual è la soluzione più veloce. Questa era una parentesi, ma per dire che quindi le curve delle perdite indirette fanno cambiare tutto il quadro della situazione. In una situazione industriale ovviamente quei numeri possono essere ancora diversi, ma se uno è in grado di fare un conto di qual è il rapporto in caso di collasso, quindi nel caso inutilizzabilità dell'edificio, allora le curve probabilmente somigliano a curve come quelle che vedete ora. Cioè sono più basse della lineare nel caso di poco danno e tendono poi a crescere rapidamente e a diventare di nuovo piatte quando ci si avvicina al collasso totale. Beh, queste curve somigliano molto a una curva di fragilità fatta andando a prendere per esempio una distribuzione normale, quella curva lì, chi di voi si occupa di probabilità o di statistica la riconosce subito, quella lì è semplicemente ricavata da una distribuzione normale e in questa curva qua basta cambiare la sigma perché la curva diventi più prossima alla retta oppure più piatta. Quindi possiamo anche far entrare qualcosa di questo genere, qualche cosa su cui non è difficile fare delle serature e andare a merda. Che succede? Succede che quella stessa curva che vi ho fatto vedere prima e cioè expected annual loss plottato verso quel parametro alfa ovviamente cambia di forma, tende a crescere, è ovvio, cioè tende a diventare più alto l'expected annual loss. E quindi vedete che ci sono curve diverse e vedete che quelle formule che ho scritto in nero che sono quelle che ho usato prima sembrano complicarsi, in realtà non è così perché sono tutti dati noti ma vedete che in funzione di quel R sub I su D cioè il rapporto fra le perdite indirette e le perdite dirette fa sì che le curve salgano e fa sì che cambi l'espressione della curva. Allora questo è quello che diventa se mettiamo l'expected annual loss verso il periodo di ritorno per esempio 20% di perdita e vedete che quella blu è quella con le solo perdite dirette e le altre sono quelle in cui le perdite indirette sono una volta, tre volte o cinque volte le perdite dirette. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io voglio progettare per l'1% annuo di perdite indirette sulla curva blu progetto per 50 anni di periodo di ritorno 20% di danno ma sulla curva nera devo progettare 400 anni cioè devo allungare il periodo sul quale mi aspetto di avere una certa perdita. Questo è quello che succede cioè più sono alte le perdite indirette e più diventa conveniente per la società progettare per un periodo di ritorno lungo cioè per una bassa probabilità di occorrenza su un certo livello di danno che io uso il 20% il 10% o il 30% possiamo discuterlo su qual è il punto che ha maggiore correlazione ma il concetto è chiarissimo ed è un concetto che non è normalmente applicato guardate che quello che sto dicendo è solo una razionalizzazione estrema di quello che già facciamo in un tentativo di renderla ancora applicabile. Dunque adesso alcuni degli ascoltatori qua presenti lo sanno ho un set di slide che faccio passare rapidissimamente perché già sapevo che avrei avuto ancora poco tempo perché qui sarebbe stato bello avendo più tempo parlare della correlazione fra perdite parametri di risposta e input perché una cosa è progettare dove mi aspetto certi tipi di eventi sismici altra cosa è progettare dove me ne aspetto altri e allora molto velocemente mi piace ricordare qui che noi progettiamo utilizzando forme spettrali che sono state originariamente sviluppate tra gli anni 20 e gli anni 30 prima da Suehir in Giappone poi negli Stati Uniti dal gruppo che lavorava a Caltech e questi sono i primi due casi di spettri di risposta pubblicati da Hausner nel 1941 e riferiti al terremoto al terremoto del 33 di Long Beach hanno già le forme di oggi e poi possiamo arrivare fino all'82 fino a quando Newmark and Holland hanno sistematizzato tutto quanto qui c'è una cosa un po' curiosa e cioè che loro che erano anzi soprattutto Newmark Nathan Newmark che era un genio e siccome di qua c'era accelerazione costante di qua c'era spostamento costante in mezzo si è inventato velocità costante che non esiste però era logico cioè era bello era accademicamente pulito in realtà non è così ora ripeto questi non li sto a dire per tutti quelli della mia generazione quei valori 1,35 g di accelerazione di picco 140 cm al secondo 90 cm di spostamento erano il terremoto che poi era il terremoto di El Centro 1940 ecco la velocità costante queste cose ve le salto tranquillamente le cose hanno trovato un'altra sistemazione col displacement based design che oramai in molti paesi viene usato comunemente per progettare e anche su questo anche su questo passo velocemente oggi da qualche anno sto cercando di convincere come noi possiamo produrre spettri con parametri indipendenti su accelerazione e spostamento e arrivare ad avere qualche cosa di più razionale è da qui che nasce la curva che avete visto prima che ora non vi sto a riprendere ma sono curve prodotte analizzando migliaia in questo caso quasi 8000 eventi che registrazioni non eventi gli eventi sono la metà che corrispondono a tutti quelli disponibili in Europa con una certa affidabilità e così si può andare a discutere di che succede nell'amplificazione del terreno che è un altro parametro che è stato trattato con molta approssimazione ma non voglio perdere tempo queste comunque sono le tipiche forme spettrali in cui la forma spettrale viene rappresentata con una accelerazione spettrale sull'asse verticale e uno spostamento spettrale sull'asse orizzontale la zona della cosiddetta velocità costante è la stragrande maggioranza della curva è quella zona curva che vedete per esempio nelle curve rosse in cui va a collegare due punti le strutture finiscono tutte lì finiscono tutte nella zona velocità costante perché mi piace usare questi questi spettri perché se avete un'accelerazione in verticale uno spostamento in orizzontale sugli stessi spettri voi potete anche rappresentare la risposta di una struttura che ha sull'asse tipicamente sull'asse verticale un parente dell'accelerazione perché ha una forza e una forza è una massa per un'accelerazione e sull'asse orizzontale uno spostamento forza verso spostamento è il tipico modo di rappresentare una struttura allora vediamo un attimo ancora un punto e poi passo alle conclusioni nel quadro di displacement based approach si cerca di tenere conto di energia dissipata ma come mai la mettiamo dalla parte della domanda invece di metterla sulla parte della capacità è la struttura dalla parte della capacità che si dissipa e soprattutto come la misuriamo questo è un punto se volete di dettaglio ma ancora non l'ho visto ripreso da molta gente noi abbiamo quella curva blu che vedete sulla sinistra che è una curva diciamo così elastica non lineare dissipare energia vuol dire passare verso un qualcosa che si comporta come la curva gialla o come la curva rossa più si dissipa energia più a parità di input la curva blu si accorcia si accorcia perché interviene il fattore dissipativo nell'equazione di equilibrio in cui sta una massa per un'accelerazione una velocità per una viscosità o qualcosa di simile e uno spostamento per una forza dunque notate bene nelle curve blu si abbassa lo spostamento dissipando energia non si abbassa la forza non si abbassa l'accelerazione in altre parole noi stiamo facendo così nello spettro spostando questo punto da qua a qua e costruendo un altro spettro quello che vedete che stiamo facendo è che manteniamo costante il periodo di risposta non stiamo mantenendo costante l'accelerazione stiamo andando secondo la freccia gialla non secondo la freccia verde concettualmente è sbagliato dissipare energia vuol dire diminuire la domanda di spostamento non diminuire anche la domanda in accelerazione questo ha un rilievo perché questo punto dello spettro non deve andare lì deve andare lì e così questi altri due punti non devono scendere in accelerazione devono scendere solo in spostamento bene allora veniamo alle conclusioni ho ancora tre minuti e tre secondi le conclusioni vuol dire prendiamo un'ipotesi lo spettro blu è la rappresentazione del ground motion per un evento che ha una bassa probabilità di superamento annuo per esempio un terremoto magnitudo 6,5 a 5 km probabilità di occorrenza mille anni il rosso e il nero sono due possibili eventi ne ho messi due tanto per far diventare più divertente la presentazione di casi più comuni può essere un evento vicino di magnitudo più piccola o un evento di magnitudo grande più lontano se adesso voglio progettare guardate cosa succede se prendo solo i due eventi frequenti se voglio limitare il danno devo limitare l'accelerazione di piano perché ci sono elementi non strutturali sensibili all'accelerazione devo limitare lo spostamento interpiano perché ci sono elementi sensibili allo spostamento devo stare lì devo stare dentro il triangolino grigio che sta fra la retta nera e la freccia rossa quindi limitarli entrambi vedete lassù in alto limito l'accelerazione di qua limito lo spostamento se faccio una struttura troppo rigida ho accelerazioni troppo alte se faccio una struttura troppo flessibile ho spostamenti troppo grandi e che succede poi? beh poi succede che invece quando vado a guardare il terremoto blu quello il ground motion blu il moto al terreno blu beh lì accetto il danno perché quello è il terremoto raro è l'evento raro e quindi mi sposto in orizzontale bene questo è il caso normale ma adesso chiudiamo facendoci una domanda se invece io dovessi limitare il danno sul moto al terreno blu devo progettare un grande ospedale voglio che funzioni in caso di forte evento come faccio? beh io adesso prendo il blu ci vado a mettere gli stessi limiti di accelerazione al piano e di spostamento interpiano e trovo lì insieme vuoto perché se io prendo una struttura forte una struttura resistente limito lo spostamento ma ho grandi accelerazioni mi vengono giù tutte le scialitiche mi vengono giù tutti i controsoffitti se progetto per una struttura deformabile in questo caso limito l'accelerazione ma ho dei grandi spostamenti mi vengono giù tutte le facciate tutte le facciate ventilate allora come faccio? beh naturalmente posso prendere anche casi intermedi qui le risposte sono molteplici ad alcune può dar risposta ilti perché io potrei dire io accetto strutture che si deformano di più ma progetto gli elementi non strutturali perché siano in grado di prendersi quegli spostamenti oppure accetto di progettare una struttura che li ho chiamato strong una che prende alte accelerazioni però allora tutti i tasselli li metto che si prendano al piano quell'accelerazione là non un'altra e naturalmente posso anche sempre pensare di usare interventi di isolamento o di Tune Mass massa accordata per ridurre la domanda di spostamento sono a zero quindi mi fermo tanto le ultime le ultime slider erano semplicemente un elenco dei passi pratici che ho provato a scrivere per fare in modo di dire come si fa a progettare secondo queste logiche e come si fa a valutare una struttura e quindi a progettare un intervento di rinforzo secondo queste logiche spero che sia stato un bel racconto e vi saluto alla prossima volta ah scusate dimenticavo la la World Conference of Work Engineering sapete che tra oramai tre anni ci sarà a Milano non lontano da qua la la World Conference of Work Engineering che torna in Italia dove è stata solo nel 1973 spero che tutti quelli che stanno ascoltando già si segnino che dovranno venire a questa mega manifestazione che avviene ogni quattro anni e in cui sicuramente Hilti sarà un grande sponsor scusate ho dimenticato grazie a tutti grazie a tutti